E' il giorno del debutto, il Foggia ha chiuso per ultimo la stagione scorsa, il Foggia apre per primo la nuova. Alle 18 sfida Vibo Valencia il Catanzaro nel preliminare di Coppa Italia, competizione nella quale i rossoneri sono stati catapultati in fretta e furia solo alla fine di luglio, in seguito all'esclusione dalla B dell'ECCO del Collegio di Garanzia del CONI, prima della miracolosa riabilitazione del Tarlazio. C'è da fare di necessità virtù per mister Cudini che, inutile negarlo, di questo intermezzo avrebbe fatto volentieri a meno. Squadra incompleta con pochissimi giorni di lavoro nelle gambe, accorto di giocatori in difesa e di scena sul campo di un Catanzaro tutto sommato già rodato, anche se con emergenza nel reparto avanzato. A lume e di naso, insomma, ci sarebbero tutte le premesse per ritenere impossibile il compito del Foggia, chiamato comunque ad onorare l'impegno, ma obiettivamente senza pretese. Scelte in alto mare per quanto concerne la formazione da verificare saranno soprattutto le condizioni fisiche degli abili ed arruolabili. Giocherà tradotto chi starà meno peggio degli altri, sarà soprattutto la retroguardia e il reparto da inventare. Tranne Papazov, Cudini non ha difensori di ruolo ed è probabile che decida di arretrare Dinoia, che pare essere uno dei pochi centrocampisti con caratteristiche in grado di giocare anche da regista difensivo. Si gioca a porte chiuse, dunque senza la presenza di tifosi. Nel frattempo si è vivacizzato nelle ultime ore il mercato in entrata del Foggia. Quattro le operazioni definite alla corte di Cudini. Sono arrivati i centrocampisti Marino, Rossi e Martini, rispettivamente in prestito da Lazio, Empoli e Inter. Preso a titolo definitivo anche il portiere Cucchietti, 25enne, ex estremo difensore della Lucchese e con una discreta esperienza in tutti e tre i gironi della terza serie.